Chiamo a Ninna, chiamo a Ninna perché vi devo interessare dal suo stato di salute se no che catenazzo di marito o fidanzato sono e siete che razza di fidanzati e che di mariti siete se non vi preoccupate di vostra moglie dalla voce dalla voce sembri guarita e sono contento senti siccome devo andare siccome devo andare siccome devo andare al biliardo ti chiamo fra 10 minuti il tempo da arrivare che non può aspettare mio padre ma se tu vuoi facciamo così meglio io vengo alle 4 e mezza e fino alle 6 e mezza facciamo quel fatto della gita tu sai cosa ho pensato il tour ai parchi nazionali della calabria ti interrogo quanti parchi nazionali ci sono in calabria allora del pollino pollino sila pollino sila e poi ce n'è un altro della serra di serra san bruno molti non lo sanno io l'ho cercato io sono contento che ballio di nuovo si parli veloci stasera alle 7 si e che ti ho chiamato non lo sentivi no sono felice per i capelli che ballio si ti chiamo ti chiamo fra 10 minuti che devo andare al biliardo se non mi fai qualcosa in cazza si va bene sono contento pure io ciao 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 allora 14 14 31 alla 14 31 1 gennaio 2024 24